Buongiorno semini, benvenuti su questo nuovo episodio di Valiant Earths Noi eravamo con, mi sembra, Carl, che stavamo dentro il campo di prigionia Allora, ci servono... ok, però stanno là dentro Oh, il volume è troppo alto per me E vabbè, mi adatterò per la prima volta, non è... No, ho bisogno di sentirmi, però va bene, va bene Allora, qui che cosa c'è? Ok, non lo possiamo sapere, lui vuole un pezzo di carne Andiamo a vedere se troviamo dell'altro Campo di prigionia, Francia Andiamo a vedere se c'è stata la calciccia Ehi tu, ci servono delle foglie Non posso andare oltre Ma saliamo su, vediamo un attimo che cosa possiamo trovare Mmm, dentro all'ormadio Aspetta, aspetta, qui c'è qualcosa che dovrei sapere Eh, lo sapevo, lo sapevo, ormai non mi ingannate più Ci metti qualcosa? San bastardo Che ti servono? Ah, ok Dobbiamo trovare un sacco di roba, regà Ma zacco, zacco, eh Oddio, che c'è fa la cal... No, fermi un attimo Che c'è fa quella cosa lì? La... Come si chiama? Il cosciotto di carne Io mo' come lo prendo il cosciotto di carne? Rompendo quelle cose? Più o meno, quindi mi servono degli oggetti Quelli Allora, un attimo, un attimo Tu che volevi? Tu volevi una pipa con le foglie, no? Ok, ma chi me la dà la pipa con le foglie? Andiamo più qua e vediamo un attimo che cosa c'è Tab, sempre tab Allora, vediamo qua dentro che possiamo trovare Questo gli servono le medicine Che non posso dargli Sì, l'ho capito Qui invece dove vado? Mmm, quei sacchi lì sembrano interessanti Ma come li butto giù? Vediamo un attimo che cosa fa questo Niente Ok, qui in qualche modo dobbiamo buttarlo giù Perfetto Sono sacchi Madonna, qui raga Ah, c'è veramente un sacco da fare Ok, qui finisce il tutto Possiamo parlare con lui? Non possiamo parlarci Nessuno con questi Ok, andiamo qui Oh, qualcosa dovrò trovare però, eh Intanto qui c'è Un taccuino Un taccuino Qui c'è dell'acqua Oddio, anche tu che cosa Sì, manca l'acqua Perché manca l'acqua? Mio Dio, io devo far mille cose Ok, quello che è il carbone Non devo metterlo dentro, no? Andiamo su Oh Ehm, dov'è l'acqua? L'acqua è scollegato Perché è scollegato? No, ma girarne uno a caso Così mi faccio un'idea Ok, c'è qualcosa che devo cambiare Perfetto Andiamo a vedere qui un attimo Questo deve collegarsi Con questo tubo Intanto vediamo anche questo Che mi sembra una Ah Ehm C'è qualcosa che ho sbagliato Regà, continuo un attimo A impicciarmi un attimo E' sempre tra questi due Sicuramente questo è il problema Allora, no Allora Allora Mi sta a confondere Vediamo se trovo la soluzione Che mi sa che ci sono arrivato E io E io Ego sotto come cazzo la lego Cipis Ah niente Ci sono arrivato Però devo trovare un modo No, no 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 Dove girare quell'altro Questo qua Perfetto Mo' dobbiamo andare Eventualmente all'altra parte Perché Tanto questo ce n'è uno Ok Ritorniamo in circolo Aspetta, aspetta C'è qualcosa che non mi torna qui Perché? Che c'è? Ecco il bastardo A che mi serviva quella cosa? Mo' ti metto a posto io però Devo da Mo' Deve un altro problema Mo' c'è C'è quella di collegare il tutto Probabilmente taglierò un sacco la parte Perché? Perché sì Perché la cosa è lunga E Infruttuosa Che giro della madosca Dopo One hour later Ah ce l'ho fatta rega Porca miseria Lo sto odiando sto gioco Ok quindi a sto tizio Deve essere arrivata l'acqua Sbaglio Tiè Bello Adesso sì che te puoi fare la dolce E io mi prendo queste due cose Ok Guarda me la faccio pure io Prendiamoci eventualmente No sto cavolo Perché già ce l'ho portata in mano Andiamo a quello che chiedeva Che bella canzoncina A quello che chiedeva la Le bredelle Non so più dove si trova Però noi andiamo qui Che c'è qua Dormitorio C'è qualcosa che devo fare qui Non posso entrare Oh c'è la pipa con l'erba Ok ricordiamo se sto posto Vediamo un po' se c'è qualcosa qui No perfetto Cioè probabilmente c'è qualcosa Nascosto Ok Ora bisogna trovare quello Che voleva No niente Quello che voleva il Come si chiama Le bredelle Forse era lui che voleva le bredelle No lui voleva la pipa Ricorda Ricordamoselo Pipa Quindi il prossimo Dovrebbe essere le bredelle Si era questo No Questo era quello che si sentiva male Dove sta quello Le bredelle Qui non posso entrare L'ho superato Da un po' che giro Ma non troppo il tizio delle bredelle Entro sempre qui Mi odio Aspetta Magari sta qua dentro Esatto Era lui che voleva le bredelle Dentro a quello del cibo E se non ti consegno le bredelle Giustamente Impazzisco Vieni qua Bello Cibo Dai dammi il La reazione Così potremo guarire Coso buffo Così andiamo A consegnare Coso Grazie grazie Molto gentile signore Adesso andiamo Andiamo Dal signore che si sentiva male Che si trovava presso i sacchi Per quante volte ci sono andato Dovrei sapere la memoria Qui Andiamo a vedere Ok Tu voli questo Che cosa poi mi dai in cambio Cicciocco Prendi Ok Stai meglio Sì sì Dovevo capire il volo Ok Perfetto E Grazie Mille Io ho trovato La bandana Che mo Non so cosa ci dovrei fare E stiamo un'altra volta A capo a dodici No aspetta La bandana serve per superare qualcosa Dunque Tutto vorrei superare qualcosa Andiamo a scoprire il perché Abbiamo trovato un oggettino Ah ecco che mi serviva Eccoci qua Dovevamo salire su Per prendere la pipa Belli di casa Sì ma adesso mi servono anche le foglie No Le foglie dove le apri Vabbè andiamo da Coso Non troviamo se ci stanno un paio di foglie No Ma lui vuole per forza anche le foglie No perché se possiamo evitarlo Andiamo da Coso Vedi Dal cuoco Oh bueno Oh bueno Voleva soltanto le foglie Allora Ho qui equilibrio No non è vero Ha fatto brutti Il primo Secondo Potevo farlo anche senza Coso E Il Terzo Che andrebbe Qui Ok questo che cos'è Che cos'è Ok non c'è niente di nascosto Niente di nascosto Andiamo dal cagnolino Che purello Lui ha fame Ah guarda come se la fuma Lui che agliardo Consegniamolo qua Lui si è esposta Ok c'è qualcosa che dovrei tenere in considerazione No tutti se ne sono andati Aia Ah no I love you so much guy Però abbiamo poco tempo Dobbiamo farlo De notte Ragazzi per questo episodio è tutto Voglio fare il più breve possibile Senza così almeno non vi annoiati Noi ci vediamo per il prossimo episodio E vediamo un attimo come riuscire a uscire da questa condizione Bye